La scusata si chiama Rigi Icova, la detentrice della quarta migliore prestazione, il cittadino di Paunschweig. Ecco la Yadis Lady. Un piccolo grande rischio l'ottava corsia Stefano. Beh, lei ci deve provare perché a Barbosa e Titimetz sicuramente fuori portata. Altre sono sparite dalla marcia, qualcuna troppo squalificata. Mi avevano troppe per sparire del tutto. Tre posti per la finale. Molto deciso l'inizio di Yadis Lady Pedroso. Ebbene, non ha punti di riferimento, deve spingere, non è che può fare troppi calcoli. E qui poi rischia di essere in capolinea, non bisogna farli i calcoli. Dietro Davido va bene, Cristiane Klops. Più nel mezzo, Titimetz più controllata. Barbosa più dietro, qui Davidova che va ad affiancare Pedroso. 300 metri con Pedroso in seconda posizione. Titimetz, Pedroso, Davidova. Non deve far scappare Klops. Dai che va bene così. Mentre va a vincere Titimetz davanti a Davidova. Il posto in finale c'è. Buona gara. di origini cadorine, forse a Gordine. Ecco qui la fase finale. Titimetz molto controllata. E anche la Davidova si ritrova un pochettino nel finale. Liga Velvere, la Lettone ha fatto il suprimato con 56-87. 7-70. E questa è Yadis Lady Pedroso. Tutta per lei la camera personalizzata da Esport. Vedi che è andata via molto decisa e qui si lancia sul rettilineo opposto. Già davanti. Poi qui ha preso il suo ritmo e non ha sbagliato niente. Ha dovuto aspettare poi di trovarsi sulla retta finale per vedere un po' le posizioni. Terza era all'inizio del rettilineo e terza è rimasta. Chiudendo molto bene lei che negli ultimi 50 metri un po' patisce la fatica. E cominci a balzare per tenere la giusta ritmica. Lei lavora tutto più sulle frequenze rispetto alle altre. Ha fatto un balzo lì prima di quella. Lì si ha fatto un balzo per arrivare con il piede giusto. Anche qui si è allungata. E poi qui è chiuso bene. Qui è in controllo. Vedi che è in controllo e rilassata. Però fare un'azione del genere è abbastanza difficile. Yadis Lady Pedroso. Brava Yadis Lady. Sei riuscita a partire bene. Decisa. Mantenere quel terzo posto. Poi con un 56.07. Mi sentivo bene. Poi ho cercato di fare lo meglio possibile la ritmica. Perché oggi è ora la semifinale. Dovevo correre per forza. E poi cercare di mantenere e chiudere forte. Ma chiudere almeno tra le due la terza posizione. Vuoi vedere la tua gara e commentare anche? No, commentare no. Vabbè. Cioè. Poi la 8. Cioè la 8 è meglio. Secondo me è meglio quello 1. Capito? Anche se sto da sola. Cioè 4 stoccoli così. Devi fare una ritmica tua e dimenticare le altre persone. Quindi ho fatto quello. Sono partita decisa e a fare la mia ritmica. L'ha molto incontro. Sì, sì, sì. Sì, adesso ho cercato di mantenere. Fino al sesto o settimo ostacolo. E poi a mantenere. Quando mi hanno raggiunto. A cercare di andare insieme a loro. Brava, grazie.